Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo spacchettamento di Brochet di Album 9 è il primo spacchettamento perché poi prossima settimana ce ne sarà un altro e quindi vi faccio vedere questo spacchettamento che è adesso diviso in due scatoloni però io l'ho messo in un unico scatolone, ho già sbirciato le cose come sempre ci sono gli omaggi che l'azienda ci mette all'interno ci ha messo due gelée marine che fa sera detergente che da strucante e un olio, no, un siero notte questo qua bifasico poi ci ha messo uno, due, tre, quattro quattro creme giorno delle leggi botanique poi filler vegetale ci ha messo due creme filler vegetale un anti-age global essenza l'emulsione è protezione 30 poi la sebo vegetale ci ha messo uno, due, tre creme della sebo vegetale e uno, due, tre, quattro, cinque, sei campioncini del super matto e un campioncino di profumo della Cournot queste sono delle salviette che vanno bene, perfette poi io ho comprato ovviamente i cataloghi album 10 che poi vedremo insieme spacchettamento in un... sfogliamo l'album, in caso mai sono un blog se riesco le solite fatture e le solite bustine che l'azienda ci mette all'interno le nostre solite sportine le bustine poi io ho preso delle novità vi faccio vedere uno spoiler volevo vedere se era qui ma non è qui la novità no nel prossimo album la novità vabbè, io ho preso un set dove c'era bagno, sì, bagno doccia crema corpo poi sapone mani eccolo qui e sapone mani all'avena questo tutto la saponetta e la crema mani all'avena che è una novità poi sempre una novità c'è questo smalto qui che è una novità questo rossetto qui che anche lui è una novità e questi due ombretti che anche loro sono una novità poi ho preso io la lipidità che è questo mini mascara intensa e molti morfose 24 ore c'erano anche i due luci da labbra che ovviamente uno terrò per me e uno lo darò alle clienti come maggio e poi per i saldi c'era in saldo anche questo piccolo smalto questo smalto qui che io amo e l'ho acquistato poi sempre con la rapidità c'era questo taccuino che io ce l'ho già è praticamente a pagine bianche che poi metterò a posto anche lui e perché doveva esserci una colonna ma non c'era e questo pompon qui questo portachiavi qua che attaccherò ovviamente al mio zainetto nuovo che mi hanno regalato qui il compleanno poi una cliente mi ha acquistato il fluido lisciante per capelli poi un'altra cliente mi ha acquistato la crema a mano e la purranica un'altra cliente mi ha acquistato il monoi l'acqua profumata al monoi questo non c'entra niente perché non mi è salita ah nel sempre e nel salto c'è anche questa novità della idraveglia per fortuna è che la tengo io perché è tutta distrutta comunque questa novità questa crema qui che non vi sto tanto a parlare ve ne parlerò più di otti poi sempre con la rapidità c'era raggiungendo una soglia c'era lo struccante bifasico una cliente mi ha acquistato un bagno doccia al limone basilico anche un'altra cliente me l'ha acquistato al limone basilico sempre un'altra cliente sempre la cliente che mi ha acquistato la crema e il bagno doccia al limone basilico l'ha acquistato alle Louis Petite Grain un'altra cliente mi ha acquistato queste due creme corpo una riparazione e una da vaniglia da 300 ml 390 ml l'una quindi io mi sono acquistata questa crema in saldo no una maschera scusate della Purka Milk che non c'è più è la maschera linitiva mousse perché voglio ricominciare a farmi le maschere ho anche bisogno a volte vedete ho la pelle che si arossisse arossisse rossisce? questo qua e quindi lo voglio provare e poi ho fatto la scorta ho preso due balsami ricci due champi ricci e quattro due quattro ne faccio vedere solo uno vabbè ve li faccio vedere quattro balsami e riparazione e quattro champi riparazione perché in casa stavamo terminando e quindi ho fatto la scorta come adesso c'è l'offerta della scorta di bagno doccia e quindi mi approfitterò e prenderò anche il bagno doccia nei prossimi nei prossimi ordini vi toglie un piccolo spoiler quindi questo è il tutto spero che vi sia piaciuto breve ma intenso 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 spero che il video vi sia piaciuto vi mando un grosso bacione come sempre iscrivetevi al canale lasciate un like seguitemi su tutti i social e noi ci vediamo in posto con un prossimo video ciao